La cagliata è rumore, vai! La cagliata è gratinata, l'arriva già addocchiata. Vai che appigliamo un numero di arri che ci diamo per dare. Tu questo non l'hai provato eh? E' un po' un po' un po' un po' un po' un po'. E' un po' un po' un po' di velocità massima, ma il minimo chilometri di percorsi. Solo che l'abbiamo messo in pausa da sopra e l'ho lasciato in pausa. Mentre questa invece sta ancora funzionando. Questa è una fascia da braccio, è una semplice fascia da braccio, no no usatela un po' adattata come smotto Oh oh oh! Allora in the United States. Allora in the United States. Vittu! Allora in the German, did I? Qui? 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 Sì, non lo faccio, non lo faccio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 tutti. a tutti. e non ti sei trovato con la camara, sembravavo estratto ma sai perché posso perché sono troppo leggero come questa rata cuncia allora me la sentivo rigida, invece questa c'è eh ti ho visto, infatti stavamo parlando perché me lo diceva che stavi camminando io stavo dietro a me, ah porca di una puttana perché era cambiata ma la popola è stata, però era cambiata eh, sì, io pensavo che era la stanchezza che era subentrata perché un paio di volte mi si è traversata di brutto perché ha preso delle botte proprio cosa che la prima volta che l'ho provato è andato a vedere non tu dici più